Tutti dovremmo passare per un'evoluzione nella vita e aspirare a migliorarci continuamente incominciando da me stesso. Baby 3.0 vuole essere un simbolo di rinascita, una nuova umanità basata sull'empatia, l'amore e la consapevolezza verso il nostro medioambiente e la vita al suo interno. Ho desiderato a lungo questo progetto ma incontravo molte difficoltà nella sua realizzazione. A cominciare da volerlo produrre senza il sostegno finanziario di una galleria come ho fatto in passato perché questa scultura deve segnare anche la mia rinascita come artista e come persona. Per fortuna ho trovato persone che hanno creduto in me e hanno sostenuto questo progetto sin dall'inizio e voglio prendervi un momento per ringraziarvi pubblicamente perché non avrei mai potuto realizzare questa scultura senza di loro. We all must go through an evolution. We all must go through an evolution. Come pallizing under you. We all must go through, get going through the apparatus. Come by下, we all must go through this circularly process. We all must go through, we all must go there and get to the atravies. We all must go through the bell người. We all must go through you the service vehicle in Ghana. In luxemdade, bubblescailsuiland municipality diospadina wallkanta的話 Grazie a tutti. Grazie a tutti.